E' anche un bravo poeta, quindi chiediamo questo inedito che poi verrà prodotto in un cd del centenario, perché in questo dobbiamo dire che il direttore è stato lungimirante, direttore e presidente di Luigi Mirante, perché oltre alla tutela della natura ha voluto anche fare, vorrà fare anche questo cd del centenario con una chicca, quella che potrete ascoltare questa sera, l'orchestra popolare del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Modise. Presidente, abbiamo fatto una piccola presentazione di questo himno, adesso è registrato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.